X-Men vs Street Fighter l'abbiamo finito con Tempesta. La nostra Tempesta ha salvato gli X-Men e gli Street Fighter e soprattutto ha salvato anche Forge. Però, anche se li vediamo insieme, possiamo notare Shumagorath. Sono sempre insieme Forge e Tempesta e poi non so che diavolo c'entra in questo gioco Shumagorath.